Dracula, di Bram Stoker, traduzione di Rosanna Pelà Diario di Lucy Vestenra 12 settembre Come sono tutti buoni con me e quel caro dottor Van Helsing lo amo proprio chissà perché si è agitato tanto per quei fiori mi ha decisamente spaventata con la sua severità eppure doveva avere ragione perché già mi hanno dato giovamento non so perché non ho paura di stare sola questa notte posso mettermi a dormire senza timori non mi preoccuperò di nessun rumore fuori dalla finestra che terribili lotte contro il sonno ho dovuto sostenere spesso in questi ultimi tempi la sofferenza dell'insonnia e la sofferenza provocata dalla paura del sonno che per me riserva ignoti terrori come sono fortunate certe persone che non conoscono né paura né spaventi per loro il sonno è una benedizione che arriva ogni notte arrecando soltanto dolci sogni ebbene stasera sono qui piena di speranza di dormire giacente come Ofelia nella tragedia con verginali ghirlande e fanciulleschi fiori sparsi l'aglio non mi è mai piaciuto ma questa notte mi sembra delizioso il suo odore emana pace sento già venire il sonno buonanotte a tutti diario del dottor Seward 13 settembre sono andato al Berkeley dove ho trovato Van Helsing puntuale come al solito la carrozza ordinata dall'albergo ci aspettava il professore ha preso la sua borsa che ora porta sempre con sé vediamo di riferire i fatti con ordine siamo arrivati a Ealingam alle 8 era una bellissima mattinata il sole splendeva e tutte le fresche sensazioni dell'autunno agli inizi sembravano completare l'opera annuale della natura già le foglie prendono ogni sorta di stupendi colori ma ancora non hanno cominciato a cadere dagli alberi entrando in casa abbiamo incontrato la signora Westenra che usciva da un salotto perché ha l'abitudine di alzarsi presto la signora ci ha accolti con calore e ha detto vi farà piacere sapere che lui si sta meglio ero in ansia per la mia povera bambina questa notte e sono andata in camera sua dormiva profondamente tanto profondamente che non l'ho neppure svegliata entrando ma l'aria nella stanza era terribilmente viziata dappertutto erano sparsi quegli orrendi fiori dall'odore così acre e lei ne aveva addirittura un mazzo sul collo temendo che quel puzzo fosse troppo forte per la cara piccola date le sue condizioni di debolezza li ho portati via tutti e ho aperto un poco la finestra per lasciare penetrare dell'aria pura sono certa che la troverete molto bene detto questo è andata nel suo studiolo dove usualmente fa colazione presto mentre parlava io avevo tenuto d'occhio il viso del professore e l'ho visto diventare color della cenere Van Helsing era riuscito a dominarsi in presenza della povera signora perché conosceva il suo stato e si rendeva conto del danno che un trauma avrebbe potuto arrecarle è arrivato perfino a sorriderle nell'aprirle la porta del salotto ma non appena la signora se n'è andata mi ha subito spinto con energia nella sala da pranzo di cui ha chiuso l'uscio allora per la prima volta nella mia vita ho visto Van Helsing crollare ha alzato le mani sopra la testa in un gesto di muta disperazione si è battuto le palme una contro l'altra angosciato della sua impotenza infine si è abbattuto su una sedia e nascondendosi il viso tra le mani si è messo a piangere con singhiozzi forti secchi che sembravano venire dallo strazio del suo cuore poi sollevando di nuovo le mani come se facesse appello all'universo intero ha esclamato Dio 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 che cosa abbiamo fatto che cosa ha fatto quella povera creatura perché tanta afflizione attacca noi tra noi è dunque ancora il fatale destino che viene da antico mondo pagano e fa che accadono queste cose in questa maniera D'un tratto è balzato in piedi venite mi ha detto venite noi dobbiamo federe e agire diavoli o non diavoli o tutti i diavoli insieme non importa noi combattiamo lui lo stesso è andato in anticamera a prendere la sua borsa insieme siamo saliti nella camera di Lucy anche questa volta ho alzato la tenda mentre Van Helsing si accostava a letto non ha sussultato alla vista di quel povero volto soffuso del terrificante cereo pallore lo stesso di due giorni prima la sua espressione era di severa tristezza e di infinita pietà come mi aspettavo ha mormorato inspirando il fiato con quel sibilo tanto espressivo senza una parola è andato a chiudere la porta poi ha cominciato subito a sistemare sul tavolino gli strumenti necessari per un'altra trasfusione di sangue avendone già previsto l'urgenza io stavo togliendomi la giacca quando il professore mi ha fermato con un gesto di avvertimento no ha detto oggi voi dovete operare sangue provvedo io voi siete già indebolito e intanto si levava la giacca e si arrotolava una manica della camicia di nuovo un intervento di nuovo una narcosi di nuovo un certo ritorno di colore sulle guance smunte e la respirazione regolare di un sonno benefico questa volta sono stato io a occuparmi di tutto mentre Van Helsing si riprendeva e riposava The Palmal Gazette 18 settembre Il lupo fuggito Pericolosa avventura del nostro corrispondente Intervista al guardiano del giardino zoologico Dopo molte richieste di informazioni e quasi altrettanti rifiuti e usando costantemente le parole Palmal Gazette come una sorta di talismano sono riuscito a trovare il guardiano della sezione del giardino zoologico dove è sito il reparto lupi Thomas Builder abita in una delle casette incluse nel recinto dietro la casa dell'elefante e stava prendendo il tè quando sono andato da lui Thomas e sua moglie sono gente ospitale anziani e senza figli e se il saggio dell'ospitalità che ho goduto costituisce per loro la norma devono condurre una vita abbastanza agiata il guardiano non ha voluto parlare di quelli che lui definisce affari finché non abbiamo terminato il pasto e ci siamo sentiti tutti sazi dopo che la tavola è stata sparecchiata si è acceso la pipa e ha detto va bene capo adesso vi conto tutta la storia qui ci avevamo un lupo che noi lo chiamavamo Bersiker era uno dei tre grigi arrivati a Gemrack dalla Norvegia che noi li abbiamo comprati quattro anni fa era un simpatico lupo ben educato che non ha mai dato fastidi che vale la pena di parlarne sono sorpreso che lui ha voluto scappare molto più che se lo faceva un altro animale di questo posto ma vedete non si può fidarsi dei lupi come neanche delle donne non fategli caso signore ha esclamato sua moglie con un'alligra risata talmente tanto che sta in mezzo alle bestie che anche lui è diventato come un vecchio lupo però non fa mica male bene signore è stato ieri due ore dopo il mangiare che ho sentito che qualcosa non andava bene io stavo lì nella casa delle scimmie a preparare una lettiera per un piccolo puma che è malato ma quando ho sentito strillare o giolare ho corso subito lì c'era Bersiker che tirava come un matto le sbare come se voleva uscire c'era poca gente in giro e lì vicino solo un uomo un tipo alto magro con il naso a becco e la barba punta che ci aveva dentro un po' di fili bianchi ci aveva uno sguardo duro e freddo gli occhi rossi subito l'ho avuto in antipatia perché sembrava che era lui che faceva arrabbiare i lupi aveva guanti bianchi di capretto sulle mani ha indicato le bestie ha detto guardiano questi lupi sembrano agitati da qualche cosa forse da voi ci rispondo io perché non mi piaceva le aree che si dava ma lui non si è arrabbiato come speravo io ma ha fatto un sorriso insolente una bocca piena di denti bianchi aguzzini e no io a loro non piaccio ha detto o sì che ci piacete ci ho risposto io imitandolo a loro ci piace sempre un osso o due per pulirsi i denti all'ora del tè e voi di ossa ce ne avete un sacco bene è proprio una cosa strana ma quando le bestie hanno visto che noi si parlava insieme si sono messe giù tranquille e quando io mi sono avvicinato a Bersic lui si è lasciato grattare le orecchie come sempre poi è venuto l'uomo e che mi viene un accidente se non è vero anche lui ha messo dentro la mano e ha caressato le orecchie del vecchio lupo fate attenzione ho detto Bersic ha risvelto non vi preoccupate dice lui io sono abituato ai lupi ma siete anche voi del ramo ci ho domandato io e mi sono cavato il berretto perché uno che commercia in lupi è un buon amico per i guardiani no ha risposto lui non proprio nel ramo ma ne ho domesticati tanti e su questo si è levato il cappello che pareva un vero lord e se ne è andato il vecchio Bersic era rimasto lì a fissarlo finché non è più stato in vista poi è andato a sdraiarsi in un angolo e non ha più voluto muoversi per tutta la sera bene ieri notte appena è venuta sulla luna i lupi hanno cominciato a ululare non c'era niente da ulularci dietro vicino non c'era nessuno tranne uno che stava a chiamare un cane da qualche parte dietro ai giardini di Park Road una volta o due sono andato fuori a vedere se tutto va bene andava bene poi i lupi hanno smesso di ululare poco prima di mesanotte ho fatto un giro prima di mettermi giù e accidenti a me quando arrivo davanti alla gabbia del vecchio Bersic vedo le sbarre rotte contorte la gabbia è vuota e questo è tutto quello che so con certezza nessuno ha visto altro circa quell'ora uno dei nostri giardinieri tornava a casa da una festa e ha visto un grosso cane grigio venire fuori dalla siepe del giardino almeno lui dice così ma io non ci credo mica tanto perché lui non aveva detto una parola alla sua signora quando è tornata a casa e solo dopo che si è saputo che il lupo era scappato e noi siamo stati a dargli la caccia al vecchio Bersiker nel parco per tutta la notte a lui ci è venuto in mente che aveva visto qualcosa ma io credo che la festa ci ha dato la testa invece signor Builder lei si spiega in qualche modo la fuga del lupo beh signore mi ha risposto con un'aria di modestia sospetta una certa idea ce l'avrei ma non so se la mia teoria vi accontenterà ma certamente se un uomo come voi con un'esperienza diretta degli animali non potesse azzardare una supposizione chi altro potrebbe farlo allora ecco signore io me lo spiego così a me mi pare che se quel lupo è scappato è perché voleva andarsene dall'allegre risata in cui sono scoppiati Thomas e sua moglie ho capito che la battuta era già stata sfruttata e che la spiegazione voleva essere semplicemente un elaborato scherzo non potendo rivaleggiare in cieli con il valoroso Thomas e credendo di non conoscere una via più sicura per arrivare al suo cuore gli ho detto via signor builder considereremo consumata quella mezza sovrana qui c'è sua sorella che aspetta di mettersi con lei non appena mi avrete detto come pensate che andrà a finire la faccenda giusto signore ha esclamato Thomas con vivacità voi mi scusate lo so perché io vi ho scherzato un po' ma la vecchia qui mi ha strizzato l'occhio era come incoraggiarmi ad andare avanti io questa poi ha protestato sua moglie io la vedo così il lupo si nasconde da qualche parte il giardiniere che non ricorda dice che galopava verso nord più in fretta di quello che può correre un cavallo ma io mica ci credo perché vedete signore i lupi non galopano più di un cane non sono mica fatti per correre i lupi sono una bella roba in un libro di favole e io vi posso dire che quando sono in branco e danno la caccia qualche cosa che c'è ancora più paura di loro possono fare un baccano del diavolo e farla a pezzi quella cosa qualunque cosa è ma dio vi benedica nella vita normale il lupo è solo una bestia inferiore senza neanche metà dell'intelligenza del coraggio di un buon cane e neanche messo quarto della sua capacità combattiva questo qui non è abituato a combattere né a provvedere a se stesso così è probabile che si nasconde in qualche parte qui nel parco trema di paura se è capace di pensare pensa dove può andare a prendersi la sua colazione o forse se è sceso giù in un altro posto in qualche cantina che figo si prenderà qualche cuoca quando vedrà i suoi occhi verdi brillare nel buio certo se lui non riesce a trovare qualche cosa da mangiare dovrà andare a cercarlo e a un certo momento può anche andare a finire in una macelleria se no e capita che una bambinaia se ne va a passeggio con un soldato lasciando il piccolo nella sua carrozzina beh allora non mi stupirei se il censimento conta un bambinetto di meno ecco tutto stavo porgendo a builder la mezza sovrana quando qualcosa è venuto a sbattere contro la finestra e la sua faccia è diventata lunga e il doppio per lo stupore che mi venga un accidente se questo non è il vecchio bersiker che torna per conto suo è andato verso la porta e l'ha aperta un procedimento che mi è sembrato assolutamente fuori luogo perché ho sempre pensato che un animale selvaggio non è mai così bello come quando tra me e lui si drizza un ostacolo tenace e robusto e la mia esperienza personale ha rafforzato quest'idea più che indebolirla dopo tutto però niente vale come l'abitudine perché né builder né sua moglie si preoccupavano del lupo più di quanto io mi sarei preoccupato di un cane del resto l'animale era pacifico e ben educato come il padre di tutti i lupi delle illustrazioni l'ex amico di Capuccetto Rosso quando cercava mascherato di conquistarsi la sua fiducia l'intera scena era un indescrivibile miscuglio di commedia e di pathos il lupo cattivo che aveva paralizzato Londra per mezza giornata e fatto tremare e fatto tremare tutti i bambini della città era lì in un atteggiamento quasi pentito e veniva accolto e vezzeggiato come una specie di figliol prodigo in veste volpina il vecchio builder l'ha esaminato completamente con la più tenera sollecitudine e terminata l'analisi del suo penitente ha detto ecco lo sapevo io che il povero vecchio si andava a ficcare in qualche pasticcio non seguitavo mica a dirlo a tutta la testa tagliata è piena di pezzi di vetro deve essere andato su qualche maledetto muro o qualche altra roba è una vergogna che alla gente gli lasciano mettere bottiglie rotte sui muri e così succede questo vieni 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 bersicare ha preso il lupo e lo ha chiuso in una gabbia insieme con un pezzo di carne che almeno come quantità soddisfaceva i principi fondamentali del vitello grasso poi è andato a fare rapporto e sono andato anch'io a stendere il mio rapporto l'unica notizia in esclusiva fornita oggi sulla strana fuga di un lupo dallo zoo nota lasciata da Lucy Westenra 17 settembre notte scrivo questa nota e la lascio bene in vista in modo che nessuno abbia a incorrere in eventuali guai per causa mia questo è il resoconto esatto di quanto è accaduto questa notte mi sento morire di debolezza e ho a malapena la forza di scrivere ma lo devo fare anche a costo della vita malignamente il sonno mi assillava proprio quando non lo volevo così temendo di essere sola ho aperto la porta e ho chiamato c'è nessuno non ho avuto risposta per timore di svegliare la mamma ho richiuso la porta poi ho sentito venire da fuori tra i cespugli una specie di ululato come se fosse quello di un cane ma più feroce più profondo sono andata alla finestra per guardare fuori non ho visto nulla tranne un grosso pipistrello che evidentemente era andato a sbattere con le ali contro la finestra sono quindi ritornato a letto ma sempre decisa a non dormire subito dopo si è aperta la porta e la mamma ha dato un'occhiata e accortasi dai miei movimenti che non dormivo è entrata e si è seduta vicino a me mi ha detto con una tenerezza anche maggiore del solito non mi sentivo tranquilla per te tesoro e sono venuta a vedere se tutto andava bene dopo un po' tra i cespugli si è levato ancora quel basso ululato e quasi subito un formidabile urto ha spaccato la finestra e una quantità di vetri rotti si sono sparsi sul pavimento una folata di vento ha spinto indietro la tenda e nell'apertura tra il vetro infranto è apparsa la testa scarna di un grosso lupo grigio la mamma lanciando un urlo di spavento e drizzandosi faticosamente a sedere si è messa a cercare con affanno qualcosa per potersi difendere tra l'altro si è aggrappata la ghirlanda di fiori che il dottor Van Helsing insiste a farmi tenere intorno al collo e me l'ha strappata per un attimo o due è rimasta a sedere indicando il lupo poi dalla gola le è uscito un gorgoglio strano orribile ed è crollata come colpita dal fulmine la sua testa ha battuto contro la mia fronte e per un momento io sono rimasta stordita sembrava che la stanza e tutto quanto mi circondava roteasse intorno a me tenevo gli occhi fissi sulla finestra e ho visto il lupo ritirare la testa poi mi è parso che una miriade di puntolini entrasse dalla finestra rotta girando e volteggiando intorno come quelle colonne di sabbia che raccontano i viaggiatori si levano nel deserto quando soffia il simun ho cercato di muovermi ma era come se un incantesimo pesasse su di me e il corpo della mia povera cara mamma che già cominciava a raffreddarsi perché il suo cuore aveva cessato di battere mi gravava addosso e per un poco ho perduto la conoscenza i rumori evidentemente avevano svegliato anche le cameriere perché ho sentito i loro piedi scalzi scalpicciare dietro la mia porta al mio richiamo sono entrate e quando hanno visto quello che era successo e che cosa giaceva sopra di me nel letto si sono messe a urlare il vento soffiando attraverso la finestra rotta ha fatto sbattere la porta le donne hanno sollevato il corpo della mia cara madre e dopo che io mi ero alzata l'hanno disteso sul letto e coperto con un lenzuolo erano tutte talmente spaventate e nervose che ho ordinato loro di scendere in sala da pranzo a bere un bicchiere di vino la porta si è spalancata per un attimo poi ha sbattuto di nuovo e le cameriere hanno ricominciato a strillare e poi sono scese insieme in sala da pranzo io ho deposto tutti i fiori che avevo sul petto della mia cara mamma subito dopo mi sono venute in mente le raccomandazioni del dottor Van Helsing ma togliere i fiori mi dispiaceva e inoltre una delle domestiche avrebbe vegliato con me stupita di non vederle ritornare le ho chiamate e non ricevendo risposta sono scesa a cercarle in sala da pranzo mi sono sentita mancare quando ho visto quello che era successo tutte e quattro giacevano inerti sul pavimento il respiro pesante la caraffa dello sherry piena per metà era sulla tabula ma c'era nell'aria uno strano odore acre in sospettita ho esaminato la caraffa sapeva di laudano guardando sulla credenza ho scoperto che la bottiglietta di laudano quella che il medico della mamma usa per lei usava era vuota che cosa devo fare che cosa devo fare sono di nuovo in camera con la mamma non posso lasciarla e sono sola escluse le domestiche che dormono perché qualcuno le ha drogate sola con la morta non oso uscire perché sento il cupo ululato del lupo fuori dalla finestra rotta grazie a tutti